Viaggiare nel Cilento e camminare tra le piccole insenature, attraversare le pinete che si aprono sulle ampie spiagge sabbiose e camminare tra i pini di Aleppo che incombono sul sottobosco multicolore, tra i profumi di mirto e ginestra, le verdeggianti euforbie, mentre enormi ulivi secolari crescono fin sulla riva, esiste un percorso enogastronomico e paesaggistico nel Cilento che non ha eguali. Partendo da Pestum che custodisce ancora intatta un'area archeologica unica in Europa, si continua nel Cilento antico, in alcuni dei più caratteristici borghi sotto il Monte della Stella, per visitare anche i vecchi borghi marinari, ancora oggi villaggi di pescatori come Santa Maria e San Marco di Castellabate, San Nicola dei Lembi, Agnone Acciaroli e poi via via scendendo fino a Sapri. Nell'entroterra cilentano il tempo sembra essersi fermato, questa è la sensazione che si prova visitando i suoi pittoreschi villaggi e i silenziosi borghi, dove si vive ancora, secondo tradizione, in una genuina atmosfera conviviale, preservando la propria identità.